Ciao a tutti ragazzi, oggi vi volevo mostrare un paio di cosette, innanzitutto ho un dilemma, mi si è rotta la moto e l'ho venduta, l'ho comprata di seconda mano e è durata proprio da Natale a Santo Stefano, ora sono in crisi perché avendo vissuto sempre con una moto o con uno scooter mi trovo in difficoltà nel scegliere se comprarmi una moto oppure comprarmi una macchina, perché ora devo scegliere queste due cose, comunque moto di seconda mano non ne voglio più, perciò o sono in diretto fra due cose, siccome la mia moto era automatica le marce non le ho capite perché vengo da uno scooter, perciò ho detto prima passo da una moto automatica, le marce lo savano e questa moto che avevo io aveva anche le marce, perciò io le marce le usavo una volta ogni tanto, perciò o mi prendo una moto con pochi cavalli come la keyway super light 125 con le marce tanto per impararmela bene bene bene, poi quando finisce la gara insieme la vendo e sto per qualche anno con una 125 tanto per provarmela, oppure mi prendo un'altra moto che io comunque soldi non ne ho così tanti, io di seconda mano non voglio comprare più niente perché mi si rompe subito, non so per quale motivo, ma mi si sono lotte quasi tutte le moto che ho avuto e quasi tutti gli scooter che ho preso di seconda mano, gli unici che mi sono sopravvissuti per tanto tempo sono quelli nuovi, avevo intenzione di prendermi l'imperiale 400, che non è proprio il mio genere di moto ma un pochettino si rifà al mio look, oppure lasciare stare le moto e comprarmi una macchina, nuova sempre l'unica con il quale il mio budget potrebbe arrivare dopo tanto tempo e dopo tanti sacrifici penso è la dacia duster e se proprio trovo un chilometro zero pazzesco una jeep renegade che sono le uniche che mi piacciono come macchine sono indeciso fra queste cose perché l'imperiale costa 4.000 euro la keyway super light costa 2.000 euro la dacia duster costa 15.000 euro e mi danno una mano anche ai miei genitori a comprarmela e la renegade costa 20.000 euro ma sempre con i miei genitori riesco a comprare perché io da solo non ci riuscirei a comprare queste cose se no avevo pensato per cambiare tipo se mi raccolgo molti più soldi a una TRK della Benelli che costa 6.000 euro ma perché per le strade dove sono io conviene comunque una moto in questa maniera però vediamo vi mostro quello che ero accimolato negli anni facendo il motociclista con una shadow e una mano ho avuto tipo 10 moto tra scooter e moto ne ho avuto qualche 10 vabbè vi mostro un po' quello che ho racimolato come motociclista allora innanzitutto il giubbotto di pelle questo non deve mancare un chiodo di pelle stile Marlon Brando del film quello più famoso che ha fatto sui motociclisti pare che sia mi ribello non mi ricordo comunque il giubbotto da motociclista per eccellente questo va bene nel motocustom nella mia moto naked nell'ashato vandava bene nella nella mana non andava bene perché graffiava il serbatoio poi le mie scarpe da motociclista queste qua sono con la mud in acciaio rinforzate di sotto stile Terminator 2 proprio sono scarpe da motociclista fatta apposta molto belle questo ve le consiglio se è passato tanto tempo sulla moto e io ci passavo parecchio tempo poi un paio di jeans imbottiti e resistenti come questi qua che mi sono costati 70 euro un paio di jeans più delle scarpe diciamo e sedella della Wrangler una marca di jeans americana che fa jeans come si deve molto buoni esistentissimi poi una classica catena da jeans da moto una catena al collo poi un anello brosway sulla sinistra collezione a doha a bullone proprio l'ho preso così sia perché mi piace sia perché se dai un pugno con questo anello ammazzi praticamente perché ha le ponte poi una croce zippo molto bella un orologio della Fossil due zippo uno zippo uno simil zippo a benzina della Ciampa la bionda solitaria e questo è uno zippo originalissimo costato 30 euro Jack Daniels bevuto in una situazione che mi è piaciuto come situazione l'ho bevuto l'ho ottenuto come ricordo una birra 8.6 perché l'ho presa perché è limited decision e mi piaceva comunque il dragone come totuaggio anche perché mi vorrei fare un totuaggio però non lo so sono indeciso forse quando dimagrisco vediamo poi il coltellazzo di Rambo che purtroppo in Italia non si può portare se non mi portavo sto coso da presso veramente è bello largo qualche 60 cm di coltello no 40 cm di coltello con la lama 26 cm infatti in acciaio 401 mi parla una cosa del genere bello duro col suo manico e si mette nella cintura poi ovviamente i motociclisti hanno la barba perciò da non dimenticare un bel olio da barba come il King Cigilette che è veramente buono ve lo consiglio ce ne sono più economici però hanno l'olio di ricina alcuni e sai bersi l'olio di ricina anche in piccole parti non è che mi piace così tanto anche se non fa niente però non ti sanno male cosa è la vita poi tre coltelli uno due a serramanico e uno a multifunzione i coltelli che vi ho fatto vedere nei video precedenti quelli da lancio che sono molto belli un profumo io ne ho tanti profumi ma ho preso questo qua che più rappresenta il motociclista americano che si chiama Red Canyon che è praticamente un dupe di Farlight ma lasciate stare non ve lo comprate se volete un profumo se non avete Farlight perché lo mettete tre secondi dopo scompare poi una balestra 150 libri l'ho preso come sfondo dal film Terminator 2 il fucile quello là il K1986 non mi ricordo quando era 1886 una cosa del genere si chiama quel fucile e lo volevo volevo anche io qualcosa di simile e mi sono preso la balestra per avere un'arma così anche perché armi da fuoco ce l'ho però non me li posso non ci posso giocare a casa poi anche un'altra balestra per rappresentare la pistola questa qua è 80 libre è una pistola balestra molto bella poi il mio classico zainetto della Degraton militare col suo coltello Sika 130 abbinato e là c'è la faretra per le frecce della della balestra le balestre io avendo il giardino le posso usare tranquillamente a casa perché comunque c'è il muro che è rinforzato che non magari quella da 150 l'ho usata qualche volta mi rompeva le frecce perciò ho lasciato perdere ma le uso poco o soprattutto le armi soft tail mentre le armi da fuoco vado al poligono per usarle e che c'è da dire questo è tutto il mio armamentario e il mio bestiario da motociclista che purtroppo ora devo decidere cosa fare proprio devo pensare proprio cosa fare è una una scelta tra macchina moto per forza qualcosa mi do comprare perché sono a piedi questo è perché uno si compre le cose usate gli sembra che sono buone e invece fanno cagare anche perché la mano era bella complicata ha lasciato vera una stupidaggine ma sempre mi ha dato tantissimi problemi e l'ho dovuta vendere comunque questo è tutto ragazzi per questo video ci vediamo al prossimo video lasciate un like se vi piacciono e iscrivetevi al canale ciao a presto ragazzi